Enrico, Enrico, ma dove puoi essere andato? Non ne ho idea, non ti viene a mettere nessuno, un amico, un uomo politico non ha amici. Io sono perfettamente consapevole delle conseguenze che si scateneranno a Roma, è proprio quello che voglio, voglio vedere questi strozzi che cosa faranno senza di me. In questo momento il paese non può consentirsi a una latitanza dell'opposizione. Forse una persona che ci potrebbe aiutare c'è. Giovanni, suo fratello, è uscito dal manicomio. Lo ritengono innocuo. Sei identico a lui. Io sono qui per far sì che domani non si dica i tempi erano oscuri perché loro hanno taciuto. Ma che cazzo di malattia ha avuto? Sembra un altro. E chi ti dice che io sia la stessa persona? Porto con me tutti gli uomini che ho matto nella mia vita. E anche te l'ho dimenticato. Ci senti solo un respiro? Sei tu. E che pazzo. Sì, così dicono. Sì, sì. Grazie a tutti.